Vedere sempre per il primo turno la partita tra Stella Rossa e Uipest di Doza a Belgrado il 30 settembre del settante la gara di ritorno all'andata 2 a 0 per l'Uipest quindi si prospetta interessante e va subito in vantaggio con Filippovic la Stella Rossa al settimo minuto esulta il pubblico e al 24esimo Zasic il giocatore più conosciuto più forte della squadra di Belgrado porta sul 2 a 0 la squadra appunto della Stella Rossa poi a Stoic al 44esimo fa 3 a 0 e rimonta completata e sarà anche 4 a 0 con Filippovic al 58esimo 4 a 0 per la Stella Rossa che passa il turno